Buongiorno, buongiorno, oggi è venerdì 25 novembre, rassegna stampa in breve di video 33, un nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, cielo nuvoloso su gran parte del territorio alto tesino, proseguiranno le precipitazioni, purtroppo in apertura della nostra rassegna stampa la pagina della cronaca nera, incendio nel cuore della notte a Settequerce in via stazione, le fiamme divampate all'interno di questa villetta hanno causato la morte di una donna di oltre 92 anni, altre 4, le persone che sono rimaste ferite causa il denso fumo che in breve si è sprigionato nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco, come detto per una donna di 92 anni non c'è stato nulla da fare, sulle cause dell'incendio indagano i vigili del fuoco. Andiamo a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola all'Alto Adige, l'apertura dedicata alle novità in tema di pensioni, arriva la busta arancione, calcolo della pensione per 45 mila lavoratori alto tesini, oggi importante firma tra il presidente Compacere e il numero uno dell'Inps a livello nazionale Boeri. Compacere dice sia la moratoria etnica lanciata da Tomasini non si lavora con chi non rispetta i gruppi. Importante novità per la Corte dei Conti è Daniela Morgante, già assessore a Roma con Marino, il nuovo procuratore della Corte dei Conti inaugurato il mercatino di Natale in pieno centro a Bolzano, il sindaco dice che sia una festa solidale. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, piano sanitario, gelo tra Partito Democratico e l'assessore Stoker, frenna dice manca una visione complessiva, l'assessora risponde, i rilievi arrivano fuori. Tempo, acque depurate, analisi allarmanti, contengono farmaci e cocaina. L'allarme arriva direttamente dai vertici di Eco Research. Sempre per la cronaca, la cronaca a livello locale, il quotidiano in lingua tresca Dolomita dedica la sua apertura agli ultimi dettagli agghiaccianti della tragedia che si è consumata in stazione a Bolzano, costata la vita a questo ragazzo di 17 anni, sappiamo aveva diritto a viaggiare in sicurezza per raggiungere i parenti in Germania. Le novità che interessano i cacciatori nei parchi naturali, novità che interessano soprattutto la provincia di Bolzano dopo l'incontro ieri a Roma tra il presidente Compaccer e i vertici ministeriali. Il quotidiano Tagest Zeitung dedica la sua apertura alla figura politica di Oscar Peterlini, le critiche lanciate all'SVP in tema di referendum, la voglia di far parte comunque della stella alpina nonostante non sia più tesserato. La cronaca a cura della City Roller Wirtschaft Zeitung, l'apertura di oggi è dedicata alla pressione fiscale in provincia di Bolzano. È tutto, vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33.